Primi grattacapi in comune per il costo del servizio rifiuti, che l'amministrazione ha già pagato per intero a LGH gestioni del gruppo A2A, versando 10.343.000 euro, messi a bilancio poco dopo ferragosto, prima ancora quindi che arrivassero i primi versamenti dei contribuenti. La sorpresa è negativa per il momento, dato che la prima rata dell'acconto dell'Atari, con scadenza a fine luglio, invece di portare 3 milioni in comune, ha fatto arrivare solo 1.300.000 euro. È solo un acconto con un andamento però che potrebbe crescere senza riuscire a coprire i 10.343.000 euro previsti, di cui uno destinato alla gestione dell'inceneritore. I conti delle famiglie in molti casi non sono buoni, come dimostra anche l'afflusso elevato di richieste d'aiuto ai servizi sociali. L'emergenza sanitaria è costata non pochi posti di lavoro, con incremento della cassa integrazione e andamento sofferto per le piccole imprese in particolare, così come risulta dall'analisi congiunturale della Camera di Commercio. Le piccole imprese hanno ricevuto agevolazioni specifiche, con benedizione e bipartisan tra i gruppi consigliari. Sono le famiglie a patire di più. Entro la fine dell'anno parte dei contribuenti in difficoltà potrà versare l'intero importo. Per l'assessore al bilancio Maurizio Manzi potrebbero mancare al 31 dicembre circa 2 milioni. I conti dal servizio rifiuti li fa Manzi, non l'assessore all'ambiente Simona Pasquali, che diversamente dal predecessore Alessia Manfredini non ha la delega per entrare nel merito del confronto. LGH e A2A riceveranno il dovuto e il Comune continuerà a pagare i fornitori entro i tempi di legge, anche perché lo Stato dà al Comune una decina di milioni di aiuti. Forse però il bilancio a fine anno dovrà essere rivisto al ribasso.